Siamo alla settima edizione, rivalutare il nostro patrimonio artistico, storico, culturale con i giochi sportivi, giochi sportivi dell'antica Grecia in un posto che era di dominio greco per cui una rivalutazione da parte dei bambini soprattutto, proprio i bambini protagonisti di questi giochi in cui troveranno tutto quanto serve per arricchire loro e dare valore al nostro patrimonio ma soprattutto per trascorrere una giornata di vita. Vita che significa anche voglia di valori, regole che permettono di rispettare non solo il parco ma tramite lo sport anche stile di vita e vita sana e vita importante per una crescita sociale e civile.